Se l'obiettivo era far valere le proprie ragioni con disagi pirotecnici, il sindacato Orsa ha colto nel segno. Lo sciopero dei lavoratori di Trenord chiude un inverno nero dei trasporti lombardi, iniziati con il maxiblocco di metà dicembre e le agitazioni di gennaio. Oggi è andato in scena uno sciopero, a muso duro tanto da far cambiare le modalità dello stop e garantire fasce negli orari di punta, ma con la promessa di fermare i convogli all'orario prestabilito che si sia giunti o meno a destinazione. Dalle 6 alle 9 hanno circolato tutti i convogli, subito dopo le 9 però è scattato lo stop delle locomotive, anche se Trenord dice che dall'inizio dello sciopero e fino alle 10 hanno viaggiato 317 convogli, l'81% di quelli programmati. Una mobilitazione vera dura tanto da far spaventare i pendolari, che allarmati hanno lasciato l'abbonamento sul comodino e sono saliti in auto per raggiungere Milano. Risultato scontato. Tangenziali Est, Ovest e Nord nel caos rallentamenti e code che hanno paralizzato la viabilità. Serpentoni di auto anche lungo la superstrada 36, la Meda Milano e sulle autostrade A8 e A9. I guai maggiori nella seconda parte dello sciopero con il rientro dei lavoratori, nonostante la seconda fascia di garanzia dalle 18 alle 21. Ma dopo un blocco, così lungo la ripartenza della circolazione sui binari sarà lenta e aumenteranno i disagi con ulteriori ritardi e soppressioni. Dopo le 21, così come al mattino, i treni, anche non arrivati a destinazione, tireranno il freno e tutti giù. Ma le fatiche dei pendolari non finiranno alle 2 del mattino di domani, al termine dello sciopero, perché dopo lo stop di Orsa, l'8 marzo saranno CGL, Cisle e Will a fermare i convogli delle ferrovie dello Stato col personale Trenitalia che incrocerà le braccia per 8 ore dalle 9 alle 17.